eh mister francky is e fox le quadruple si fa di fanti c'è capito? ah certo missile nemico in avvicinamento c'è un'imbarcazione a quanto? ah me lo fritaron sureko, imbarcazione d'attacco sto arrivando, sto arrivando, sto qua, sto qua che mi devo vendere quello di prima che... vai l'ha preso scout si si l'ha preso ahia, mi è arrivato un missile a cazzo, senta che me l'ho agganciato cioè mi dava il segnale, capito? l'obiettivo c'ervo è stato correttato si fate hot up di giustifici, un piccioso, si un mio ischiocio, si vedo un mitragliere nemico, è a sud della tua condizione quattruple italiana vabbè 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 lassù numero si perchè mi piace mi piace mi piace il little board lo so quanto i pro c'è un hd pro c'è un hd pro facendo 18-15 per colpa forza e mi faccio fare con questo aiuta 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 ma sta fatto quello ma quello non se ne fai eh scato cazzo quanto è concentrato quanto per quanto guidano risponde va bene la concentra ma visto quanto le fa di fila mamma mia è una roba assurda ma frefranco lo sai che è secondo al mondo questo eh frefranco fiero per lui tu non parlaste spagnolo si 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 è che sei blando ciao come no si 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 il nemico vien con lo stacco nemico nemico elicottero è un nemico bravo si 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 entiende no no bravo ok b oh no 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 no